Per farlo arrivare ai nostri concittadini, ai nostri conoscenti, insomma alla gente con cui viviamo, prima di tutto agli studenti, quindi ai coetani dei ragazzi che poi saranno parte attiva sul palco e poi insomma alla città di Alcamo perché è un messaggio molto bello, molto vicino a noi e quindi ci teniamo che venga diffuso quanto più possibile. Io lo ammetto e alle volte sinceramente ne chiedo anche perdono per il ritardo e la lentezza con cui purtroppo presentamente ancora mi ritrovo, io parlo di me, poi ognuno in genere può scegliere quello che vuole, con cui ancora sento il bisogno e l'urgenza di essere veramente attento alle cose che accadono, alle profezie e ai bisogni di cui la nostra città chiede. Anche Alcamo ha bisogno molto di sicurezza e lo sappiamo tutti che ha bisogno di sicurezza, di lavoro, di povertà. Sono direi tre bisogni urgenti che chiedono a tutti una collaborazione più attenta a tutti i livelli.